Ciao Alessia, buongiorno! 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 Ti sei appena svegliata? Sì! Dopo due ore di sonno? No, vabbè. Quattro, ma siamo vicini. Buongiorno. Allora, cortesemente Alessia, ti presenti, please? Ci dici chi sei, cosa fai, di cosa ti occupi. Allora, io sono Alessia Rabate. Yes! Ho 23 anni, sono una cantautrice calabrese e abito a Milano e studio col maestro Tosoni da oltre un anno, giusto? Sì, più o meno, non lo so. Ci approcciamo al secondo. Con il Covid abbiamo perso un attimo i riferimenti temporali. Sì, assolutamente. Abbiamo anche iniziato a fare lezioni online che viene stato un approccio un po' strano. Perché tu cosa stavi cercando? Ti ringrazio. Cosa stavi cercando, Ale? Qual è stata la spinta? Qual è stata la spinta? Perché cercavi un insegnante? Cosa sentivi? Allora, io lavorando con la voce diciamo che mi ero resa conto che una certa bisogna iniziare a prendersi cura di questa voce, no? e avevo provato un paio di insegnanti prima fra cui anche uno a Milano con cui non mi ero trovata troppo bene. Per un po' ho lasciato stare comunque per pigrizia perché trovare un insegnante è impegnativo. trovare quello giusto e impegnativo poi una certa ho detto no, basta devo trovare qualcuno e allora piuttosto che mettermi io là sbattermi a trovare qualcuno ho scritto su Facebook ciao ragazzi mi consigliate un insegnante di canto bravo e questo mio amico Emanuele mi scrive il maestro Andrattosoni bravissimo ti cambierà la vita e mi ricordo tu subito hai risposto ho scritto no ma va però se vuoi ci facciamo una chiacchiera c'è un insegnante deve essere come posso dire amorevole ma te deve menare tutto giusto poi come fai tu invece c'è da menare si mena quando c'è da fare il conflimento si fa il conflimento a Vanessa si dice una onta è una punta cioè devi sempre trovare la via di mezzo che in realtà la via di mezzo poi è personalizzabile cioè tu devi capire in base all'allievo che hai di fronte quanto devi dare onta e quanto devi dare punta nel senso che è il risultato che conta e il risultato non è tanto il cantare bene almeno poi questo sarai tu a dircelo ma è lo stare bene cioè come posso io insegnante aiutare l'allievo ora a stare bene perché se lo aiuto a stare bene anche la sua voce e anche il suo canto migliorerà almeno questo è il mio modo di la voglia ma anche solo il fatto di acquisire consapevolezza cioè io adesso sono un po' senza voglia perché ho dormito poco comunque ieri sono anche uscita ho fatto un po' di vita sociale adesso che sono vaccinata diciamo che sei giovane ancora dai sei ancora giovane però lo so so che se anche stasera esco e faccio così domani voce non ce n'è prima magari mi risperavo quando rimanevo senza voce invece adesso sono più cosciente dei miei limiti ma anche delle mie potenzialità e so anche che magari sul parlato ancora faccio un po' di fatica quando mi metto a cantare anche se sto così comunque canto bene ok sarebbe interessante ma questo è lo spunto che io ti ho dato dall'inizio se tu anche nel parlato eh sì eh vedi che stai già dove sto andando a parare già ti applicassi come ti applichi perché tu sei una grandissima professionista nel senso che tu hai molto chiaro che cosa vuol dire il professionismo per le tue realizzazioni per quello che stai facendo per come stai impostando la tua vita se portassi anche nel parlato questa tua professionalità non avresti questa difficoltà nemmeno al risveglio però come dicevo prima se sei ancora giovane va bene che ti alzi si chiama crescita va bene crescita sì sì cioè a parte quello io ho sempre incontrato nella mia vita durante i miei percorsi di studio del canto uno scoglio quasi insuperabile cioè tutti mi dicevano è una voce stupenda però a livello tecnico non sei per nulla predisposta e tutti gli insegnati con cui ho lavorato hanno iniziato a farmi lavorare dalle cose sbagliate tipo dalla respirazione cioè che tu mi metti là mi fai respirare mezz'ora a che mi serve? poi io sono soggetto ansioso quindi invece stai là respira e finisce mi blocco non riesco a respirare quindi diciamo che ero un po' entrata nella concezione che fossi io quella sbagliata fossi io quella difficile da l'allieva difficile no? quindi diciamo che sul parlato che è la cosa che poi alla fine uno usa di più del cantato molto di più poi per la per la vita che faccio io nonostante io canti tantissimo quindi immagina quanto parlo ancora c'è un po' un po' di fatica ecco poi come ti dicevo mia madre anche ha un problema nelle corde vocali ha praticamente una corda e mezzo praticamente da sempre questa cosa quindi ho proprio assorbito questo modo di parlare sbagliato poi tu guarda io ti interrompo proprio per per avvalorare questa tesi che stai cominciando ad esprimere ogni volta che tu torni in Calabria perché tu in questo momento sei giù peggiora certo peggiora perché si riattiva proprio delle memorie questa memoria architipale materna che ti riporta in quella infatti ti dico io ti ho trovato altre volte appena sveglia a Milano e la tua voce non era così non era così non era così quindi c'è proprio un'affonia materna che guarda fa anche tenerezza e quindi è una cosa carina però è una cosa che guarda tu hai usato prima la parola consapevolezza e per me è il cardine principale che proprio fa parte della salute dell'allievo oltre che del sottoscritto cioè per fare un bel lavoro bisogna stare bene nella consapevolezza quindi se tu sei consapevole che la vicinanza con mamma in questo momento in questo momento perché domani potrebbero non essere così ma in questo momento ancora riattiva questa memoria l'importante è vederla basta si esatto se tu adesso hai una una take da fare o hai una performance da eseguire l'importante è essere sul pezzo e pam dire ok questa affonia non è la voce che sta giù è semplicemente la vicinanza di mamma per non dare nessuna colpa alla mamma poveretta che non ne ha no poverina vado sul pezzo e spacco e vado a mille grazie Alessia veramente bello perché ci tengo a sottolineare sempre la bellezza che c'è in ognuno di noi Rudolf Steiner che io spesso cito io quando l'ho letto ho trovato la soluzione alla stanchezza di cui alcuni colleghi parlano alcuni colleghi parlano delle tu fai 6 ore 8 ore 10 ore di insegnamento e sei stremato e io non è ovvio davvero io non sentivo stanchezza e quando ho letto Steiner nell'essenza della musica che è un libro che io consiglio assolutamente anche il suo libro molto forte un libro molto bello lui diceva se ti concentri sulla bellezza della persona che hai di fronte tu acquisisci energia non dalla persona ma da tutto quello che ti circonda e io più che oltre alla bellezza esteriore di Alessia che è indiscutibile ma la bellezza di quello che c'è dentro Alessia la bellezza di quello che c'è dentro la persona che ho di fronte è quello che mi permette non solo di non affaticarmi ma di fare il lavoro migliore in quel momento sulla sua vocalità è quello che va portato fuori e nell'accettazione anche di tutto quello che la persona pensa che non vada bene pensa che non vada bene però vabbè non voleva essere un monologo deve essere un intervento no no però è bellissimo capisco quello che dici capisco perché comunque conosco degli insegnanti o anche un insegnante in famiglia e vedo vedo la differenza che c'è fra gli insegnanti che conosco e te grazie speravo che andrò con in famiglia dico fosse orientato sulle riconoscere la bellezza è la vera educazione sai mi cosa la vera educazione exducere cioè proprio condurre fuori cioè noi siamo bellezza anche con tutto il nostro marciume noi siamo bellezza anche con tutte le nostre difficoltà noi siamo bellezza vero vero ci pensavo ieri sera guarda perché non ci fai un brano perché non ci scrivi un brano Ale sei una brana però ci sta un concept allora e mi interessa sapere quindi noi abbiamo cominciato questo percorso che bello che meraviglia infatti è molto bello lo scambio con te e vorrei che ci parlassi un attimo di quelli che sono stati i nostri risultati che ci hanno emozionato tante volte che ti dicevo madonna Ale c'ho la pelle d'occa ti rendi conto che mi è venuto un brivido cioè che cosa è successo cosa hai sentito e cosa sta succedendo perché stiamo ancora lavorando ancora ce n'è di lavoro da fare ma sì ma è un percorso infinito mettiti comoda quello della voce possiamo vederci anche una volta ogni sei mesi però c'è che cosa è arrivato fin qui allora come potresti definire cioè uno dice qual è il risultato di cui vuoi parlarci allora all'inizio facevo una fatica mortale c'è anche solo fare una R fatta bene o una Z era difficile si spezzava il fiato ma perché mi ero autoconvinta no io non so respirare no io non so fare questo no non so fare quello poi in realtà lo shift vero è avvenuto perché all'inizio ti ricordi facevo una lezione non studiavo era un po' viscola quando ho perso totalmente la voce per il reflusso tu mi hai salvata da un capello così mi ha detto stai zitta no caffè no cioccolato tutte le regole del reflusso da là ho capito che insomma devo mettermi sotto sta roba perché se io voglio farlo di mestiere devo mettermi lì e studiare e ho iniziato a essere molto più disciplinata ma molto di più infatti è questo perché al di là delle regole alimentari e ci tengo a specificare che è importante questa intervista perché visto anche il tuo indotto la vedrà un sacco di gente di cantanti e gente che ti guarda un po' come riferimento perché ne ho sentita più di qualcuno che mi dice io vorrei cantare come lei io vorrei fare quello che fa tu quindi diciamo la gran voce che non basta una dieta alimentare per il reflusso cioè il reflusso è proprio uno spunto uno stimolo che ti sta dicendo ah lei è pronto ah che devi cambiare stile di vita se vuoi farla cantante devi essere molto disciplinata prego molto cioè come un atleta me lo dici sempre anche tu ed è vero cioè mi rendo conto che quando vado a dormire presto mi sveglio presto faccio attività fisica mi metto e faccio i miei esercizi di canto anche solo cinque minuti al giorno però ho già solo l'atto di mettermi là prendermi cura della mia voce già quello mi mette in uno stato di differente poi ovviamente quando quando lo faccio la mattina ho notato che è ancora più bello perché il resto della giornata io comunque ho un'impostazione vocale già quindi anche le prime parole che inizio a dire sono più più centrate quindi mi stanco di meno eccetera eccetera però sì la disciplina è importante e da quando quando da quando l'ho capito da quando ho iniziato ad essere più disciplinata nella mia vita un po' da tutti i punti di vista ho iniziato a vedere i reali miglioramenti a livello a livello tecnico e ho anche iniziato a vedere che quelle cose che noi facciamo a livello tecnico poi riesco a portarle nel canto con più con più facilità perché secondo me per una persona che come me inizia un percorso di tecnica vocale che già sta facendo questo lavoro che già ha un'identità già ha un suono la cosa difficile che è lo scoglio che io ho sempre trovato nella tecnica vocale è proprio integrare la tecnica al tuo modo di cantare in modo naturale senza fare tipo suoni strani cose strane capisci cosa cosa intendo capito benissimo certo è quello che chiamiamo un po' l'applicazione al canto cioè tutta la fase di tre stelle separiamo i momenti tecnica canto ed è giusto è fondamentale cosa che tanti insegnanti non fanno ma io credo che sia proprio no apri più chiudi di più questo secondo me non funziona credo che sia il fattore differenziante del lavoro che facciamo cioè proprio quello del distinguere stiamo facendo tecnica non c'è emozione non c'è cuore non c'è connessione spirituale non c'è non c'è niente tecnica la meccanica c'è la connessione spirituale lo sapevo che mi sgamava vedi gli allievi crescono brava e com'è che c'è la connessione spirituale anche nella tecnica è perché c'è quel lavoro che andiamo a fare non andiamo solo a cercare un bel suono andiamo a cercare quel suono che è quasi come come si ti aprisse delle 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 porte anche a livello spirituale mentale sono veramente colpite quando sono solo del pianto entri così nello stato meditativo per me è quello il momento migliore quando io riesco anche da sola perché faccio un po' più di fatica da sola a mettermi là a fare i miei esercizietti tecnici e a perdermi in uno stato meditativo nell'esercizio che sto facendo là per me è top cioè valgono di più dieci minuti fatti così che mezz'ora con la testa che va ovunque e lo sai che io ho questo problema che la mia testa va ma chi non ce l'ha adesso soprattutto oggi eh? chi non ce l'ha dico soprattutto oggi la testa che va grazie di questa testimonianza è come se noi dalla connessione spirituale non riuscissimo ad uscire anche quando siamo convinti di essere completamente sconnessi in realtà noi siamo sempre connessi solo che c'è qualcosa che impedisce che siamo convinti è come quando sai oggi si dice mamma mia che giornata che brutta giornata non c'è il sole non è vero il sole è sempre lì solo che ci sono le nuove è vero è solo coperto ok? quindi quando tu accedi ad una dimensione spirituale o ti rendi conto di noi siamo tutto questo e quindi quando ci mettiamo in quella modalità tecnica dove non c'è interpretazione dove non c'è edizione dove non c'è attenzione intonazione intonazione le note sono tutte uguali stona pure chi se ne frega l'importante è che tu stia in quello stato è chiaro che ti rendi conto che ma allora basta veramente riconnettersi a qualcosa dove saremo già connessi solo che ce ne dobbiamo rendere conto va bene vado velocissimo perché ci stiamo trattenendo oltre vorrei parlare un'ora con te perché stanno scelta eh lo so anch'io eh ma dobbiamo fare lezione quindi quindi concludendo caro Alessia perché tu stai vivendo adesso entro un po' a gamba tesa considerando che stai vivendo anche un momento di trasformazione tuo importante quanto il lavoro nel suono nella voce nel respiro quanto quei dieci minuti di cui tu parli tu dici che sono importanti perché la tua giornata poi è come se rimanesse su una frequenza diversa quindi come quei dieci minuti in qualche modo influenzano la tua giornata la tua quotidianità cioè in che modo faccio un esempio veramente semplice perché oggi delle persone le persone hanno bisogno di semplicità vero quindi in che modo quei dieci minuti cambiano la tua quotidianità fai un esempio il primo che ti viene semplice essendo proprio una un'esperienza che che ti connette mi rendo conto che affronto la giornata con più calma con più chiarezza mentale con più consapevolezza e poi ti dico per me non c'è sensazione più bella di parlare cantare e sentire che la voce va da sola quella è la sensazione più bella in assoluto cioè quando quando la voce c'è mi sono felice che bello anche se spesso non ce l'ho perché ogni tanto non è che sono non è che sono di Dio ogni tanto magari si perde la serata o la cigarettina guarda ieri una un'amica in comune una cantante come te ha detto rilasciandomi un'intervista anche lei ha detto attraverso il percorso della voce ho imparato sto imparando ad accettare che la mia voce non sia sempre la stessa che il mio corpo non è sempre lo stesso sto imparando ad accettare questa cosa sì cioè sì per forza sto accettando che lo strumento cambi di giorno in giorno che non vuol dire mi rassegno o mi accontento perché l'accettazione è la valorizzazione massima dello stato attuale sì quindi oggi cosa c'ho? ho questo? bene porca miseria oggi io spacco con questo senza pretendere che sia quello di ieri no no certo certo però quando c'è la voce bella è lì è una sensazione bellissima sono le giornate come il burro e anche lì devo dire wow sto vedendo che oggi va tutto così e magari mi posso chiedere perché magari sono andata a letto presto mi sono svegliata presto ho fatto i miei esercizi sto mangiando biologico non cade dal cielo questa cosa non cade dal cielo sto fumando meno però ripeto io c'ho più del doppio dei tuoi anni Ale c'è tutto il tempo stai serena divertiti goditela adesso ci salutiamo ci congediamo per l'intervista e cominciamo la nostra lezione va bene? grazie grazie maestro grazie ciao cara ciao ciao un finto ciao un finto ciao perché adesso noi chiudiamo salutiamo chi è rimasto con noi fino a questo momento fate i bravi ecco salutiamo voi ciao voi ciao ciao vedetevi quello di voi stessi ciao 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 ciao